Ciao a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi il suo nuovissimo aggiornamento meteo. In questo video andremo a parlare dell'instabilità che sta per andare a interessare e che sta già interessando la nostra penisola. Come potete ben vedere anche dalle immagini e dal modello, prossime ore, già durante la nottata arriveranno delle intense precipitazioni. Allerta meteo emessa dalla protezione civile sulle regioni centro-settentrionali, in particolar modo Liguria, Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Friuli. Ma poi nella giornata di domenica c'è ne andranno anche sulla Campania e sulle altre regioni medidionali. Per quanto riguarda, come possiamo vedere anche da queste immagini, in questo caso la cartina che si sta ingrandendo, andiamo a specificare nel pomeriggio, primi temporali intensi che avranno a interessare la Toscana soprattutto e anche parte di Emilia Romagna. Dopo questi fenomeni intensi che si andranno a creare, toccherà poi la nottata, quando durante la nottata la situazione dovrebbe andare a peggiorare notevolmente. Come possiamo vedere c'è il rischio di intensi alluvioni e temporali auto-rigeneranti tra la Toscana e l'Emilia Romagna. Rischio di, come ho già detto, di intensi alluvioni sulla Toscana nord-ovest, ma comunque su tutte le coste della Toscana e poi anche sul lato Adriatico per quanto riguarda l'Emilia Romagna. Questo stiamo parlando durante la nottata. Poi arriverà la fase di domenica, quando la situazione andrà a peggiorare soprattutto sul centro-sud, con rischi di intense alluvioni e temporali, sempre rimarranno con delle stabilità sul nord e rischio, come possiamo vedere, rischio di intense alluvioni tra Veneto e Friuli e poi anche su Lazio e Campania. Ringraziamo della visione, quindi se siete in queste zone vi chiedo di fare particolarmente attenzione e per maggiori informazioni basta andare sul sito della protezione civile, e andare per quanto riguarda il bollettino dell'alerta meteo. Ringraziamo nuovamente e invitiamo ancora di iscrivervi al canale, lasciare un like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo.